incidente sulla provinciale tra albino e gazzaniga poco prima di mezzogiorno una ragazza di 18 anni di peia ricoverata al papa giovanni il 23esimo di bergamo papo nuova guinea braccio di ferro con i poteri delle piantagioni dell'olio di palma per l'arcivescovo scaldino francesco panfilo in un albergo a quattro stelle di castione una clientela molto particolare presso il grand hotel preso lana stanno infatti alloggiando numerosi turisti di religione ebraica della corrente are di buonasera ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla provinciale della valle seriana tra albino e gazzaniga l'episodio è avvenuto intorno alle 11 e 45 ha coinvolto un furgone e uno scooter sul posto è intervenuta un'ambulanza della croce verde di colzate in codice giallo diventato rosso una volta verificate le condizioni della ragazza di 18 anni coinvolta nel sinistro secondo una prima ricostruzione la giovane di peia era in sella suo scooter diretta verso crusone quando nei pressi dell'innesto per gazzaniga nella zona delle pezzoli shop pare abbia tamponato il furgone che viaggiava davanti a lei la ragazza è stata portata all'ospedale papa giovanni ventitresimo di bergamo dove è stata ricoverata in prognosi riservata e in questi giorni è rientrato dalla papua nuova guinea l'arcivescovo scalvino francesco panfilo missionario da oltre 50 anni prima nelle filippine e ora in papua nuova guinea dove dal 2011 è arcivescovo di rabaul monsignor francesco panfilo dopo due anni lontano da casa è rientrato in terra bergamasca per un periodo in famiglia negli ultimi mesi in papua il salesiano ha fronteggiato i poteri forti che gravitano intorno alla coltivazione dell'olio di palma dopo che un suo collaboratore legale impegnato nella difesa di alcuni proprietari terrieri il neozelandese douglas tenet si è visto ritirare il visto tanto da essere imbarcato su un aereo per il suo paese dopo un confronto con le autorità il coinvolgimento della popolazione locale che ha protestato in modo deciso tenant è rientrato nei giorni scorsi a vuna pop e presso gli uffici dell'arcidiocesi dove può continuare a occuparsi di progetti legati al diritto alla terra abbiamo raccolto un commento dell'arcivescovo per farlo rientrare ho dovuto accettare alcune condizioni e una delle condizioni sarebbe che questo mio collaboratore indirettamente viene chiesto anche all'arcivescovo sarebbe di non intervenire in attivismo sociale che può dividere la popolazione noi abbiamo accettato questa condizione perché sappiamo che che praticamente la chiesa è impegnata nel portare nel nell'unire la gente non nel dividerla sono i poteri forti che cercano di applicare la strategia del divide ed impera dividi per per controllare la gente noi cerchiamo di portare unità e pace ecco e adesso dovremo anche secondo me la chiesa cattolica dovrà fare anche forse una una dovrà sedersi con la con le autorità governative per vedere di di capire bene cosa si intende per per operatore religioso perché loro ci dicevano che abbiamo abusato del nostro diritto del nostro del nostro visto nel nel perché ci siamo impegnati nella abbiamo abusato del nostro diritto di missionari il diritto nella chiesa cattolica la missione della chiesa e la natura della chiesa e la proclamazione della parola di dio e la celebrazione dei sacramenti ed è costruire la comunità cristiana nella carità il papa benedetto xvi diceva che questo è la la natura e la e la e la missione della chiesa a una triplice dimensione appunto questa qua non si può separare una cosa dall'altra devono essere portate avanti assieme ecco quindi abbiamo adesso da affrontare vediamo se questa questa questo evento questa espulsione magari può anche convincere questa compagnia e questo questi poteri forti di accettare di sedersi a un tavolo per rinegoziare il contratto rinegoziare il contratto anche nell'ottica della laudato sì di papa francesco sì esatto perché la nostra risposta infatti adesso non ho il testo qui davanti a me ma il papa stesso dice quando ci sono progetti così grossi progetti agricoli di questa natura ci sono domande che bisogna chiederci chi lo fa dove lo si fa come lo si fa chi paga quali sono i quali sono i vantaggi quali sono gli svantaggi questa cosa qui è chiaro che quando quando hanno iniziato questo progetto a west pomio la laudato si non era neanche in vista perché hanno iniziato nel 2008 2010 la laudato si è venuta nel 2015 però ok va bene non la laudato si è venuta dopo però noi dobbiamo chiederci basandoci appunto sulla laudato si seguiamo perché il papa dice esattamente cos'è il processo da fare per arrivare a una ecco un a un grosso a un vasto consenso e allora questo lo si può fare se ci sediamo realmente a un tavolo e di questi temi ci occuperemo anche domani sera all'interno di target trasmissione in onda alle ore 19 sempre sul canale 88 di antena 2 ora parliamo di turismo a castione della presolana stanno alloggiando numerosi turisti di religione ebraica della corrente aredì una forma molto conservatrice dell'ebraismo ortodosso il gruppo è alloggiato presso il grand hotel presolana l'avventura nasce l'anno scorso con un esperimento sul mercato kosher unito alla nostra clientela tradizionale per aprire nuovi mercati e per sfruttare un mercato che non tutti gli alberghi accettano facilmente e quest'anno sta andando benissimo anche oltre le aspettative visto che praticamente abbiamo trovato che la clientela è diventata l'ottanta per cento di dell'occupazione hotel è diventata kosher questo per voi è significato un lavoro di preparazione di adattamento anche le richieste è un continuo adattarsi perché anche nella tra il primo gruppo e il secondo gruppo che stiamo ospitando adesso ad agosto abbiamo dei personaggi di un certo livello che richiedono determinate situazioni o servizi e che ci portano quindi a modificarci in continuazione perché è un gruppo di ebrei ortodossi molto radicali e necessita di tante cose e subito quindi ovviamente la difficoltà è stata adattarsi alla rapidità immaginiamo che ci siano stati soprattutto delle degli interventi delle migliorie nelle cucine per venire incontro a queste esigenze particolari allora diciamo che a livello di cucina non abbiamo dovuto fare un granché perché la struttura fortunatamente ha a disposizione due cucine per cui questo ci ha permesso di continuare a cucinare regolarmente per la nostra clientela e di riservare esclusivamente una cucina dedicata al kosher l'unica cosa che viene fatta a inizio servizio è una purificazione della cucina quindi vengono dei rabbini specifici per questo tipo di lavoro che sanificano completamente la cucina da eventuali taracce di grasso animale specie maiale che loro non mangiano per il resto la parte di stoccaggio materiali piuttosto che la zona pasticceria o le zone di lavaggio separato delle posate e stoviglie da carne da quella latte era già presente per cui l'adattamento non è neanche stato necessario l'unica cosa che è stata necessaria è formare il nostro personale a separare le stoviglie. E i numeri? Per quanto riguarda i numeri ovviamente siamo partiti con un progetto sperimentale che prevedeva un quarto dell'hotel dedicato al kosher ci siamo trovati con tre quarti dell'hotel preso dal kosher per cui numeri altissimi siamo arrivati a circa 5.000 presenze nel giro di due mesi e con una richiesta già da parte degli operatori di addirittura di esclusivizzare il 2018 sempre adesso con il beneficio della proprietà e gli impegni che comunque la struttura ha con Atalanta o con altre situazioni che sono già programmate nel tempo. Attualmente stiamo cercando nuove località per i nostri clienti clienti che arrivano da tutto il mondo e proprio per loro cerchiamo queste location. Qui l'estate è molto bella si possono spendere i mesi estivi con la famiglia con i bambini l'hotel è bello e queste sono le ragioni per cui lo abbiamo scelto. Abbiamo ospiti dall'America, da Israele, Londra, Belgio, Australia, insomma ebrei da tutto il mondo che cercano un bel hotel con un'alta qualità di servizi, una bella località con una bella vista e aria pulita ed è quello che diamo ai nostri ospiti. cerchiamo posti in cui poter stare nell'hotel e avere anche la possibilità di stare nella natura e questo è proprio perfetto per i nostri ospiti. E ora andiamo ad Alzano Lombardo dove giovedì sera prende il Via La Bergenfest. Noi abbiamo questa abitudine di tenere viva l'azione politica anche d'estate quando magari la gran parte dei nostri colleghi politici vanno alle Maldive. Noi abbiamo questa capacità di tenere comunque alto il livello di attenzione perché non è sicuramente né scemata l'idea di una immigrazione selvaggia, non è scemata l'idea che un Ius Soli dovremmo comunque bloccarlo a settembre-ottobre e assolutamente è viva l'idea che una Lombardia autonoma possa comunque inescare un meccanismo virtuoso per tutto il paese. E la Bergenfest per il popolo del Carroccio questo è un appuntamento storico? Beh dire assolutamente sì, abbiamo anche degli appuntamenti veramente importanti, ci sarà anche Enrico Mentana come moderatore dei tre presidenti di regione Liguria, Lombardia e Veneto e questo dovrebbe mettere in condizione anche Salvini di avere una platea molto importante come succede poi tutti gli anni. Quindi una Bergenfest orientata al 22 di ottobre, una Bergenfest che è orientata alle prossime elezioni politiche che speriamo vengono il primo possibile febbraio, marzo, gennaio dell'anno prossimo, vediamo. Ventottesima edizione? Allora la ventottesima edizione della Bergenfest, la festa più storica nel movimento politico della Lega Nord, siamo ancora qui come 28 anni fa dove era partito questo sogno di cambiamento. Gli ospiti sono veramente tanti, elenco solo chiaramente alcune delle serate. Giovedì 24 è una serata dedicata agli amministratori della Lega Nord, c'è il nostro segretario provinciale Daniele Belotti, Simona Pergrefi coordinatrice dei sindaci della Lega Nord e Giovanni Malanchini responsabile degli enti locali della Lega Lombarda. Poi venerdì 25 il nostro fondatore Umberto Bossi, consigliere regionale Claudio Borghi, Armando Siri e consigliere regionale a Toscana Casucci. Sabato 26 Maria Stella Germini, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti moderati da Gaia Monbelli di Sky. Domenica 27 una serata dedicata ai senatori della Lega Nord, il senatore Gianni Crosio, la senatrice Silvana Comaroli, il senatore Sergio Divina, il senatore Raffaele Volpi, il senatore Giacomo Stucchi e l'europarlamentare Angelo Ciocca. Arriviamo lunedì 28 abbiamo Roberto Maroni che è governatore della regione Lombardia, Giovanni Totti della regione Liguria e Luca Zaia presidente della regione Veneto, moderati da Enrico Mentana direttore della Sette. Martedì 29 una serata dedicata ai giovani padani, mercoledì 30 abbiamo il senatore Roberto Castelli, l'ex parlamentare per Guido Vanalli, già sindaco di Pontida, Stefano Bruno Galli, capogruppo della lista Maroni regione Lombardia. Giovedì 31 una serata dedicata ai consiglieri regionali della Lombardia, Romeo, l'assessore Claudio Terzi, l'assessore regionale Cristina Cappellini e il consigliere regionale Roberto Anelli. Poi anche i consiglieri della regione Liguria, il vicepresidente Sonia Viale, l'assessore regionale Edoardo Rissi e l'onorevole Gianluca Pini. Venerdì 1 settembre avremo il nostro segretario nazionale della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi e questa è una serata un po' dedicata anche a un artista della nostra valle che Bepi, che tutti conoscono, sabato 2 la grande serata con il nostro segretario federale Matteo Salvini, domenica 3 settembre il senatore Roberto Calderoli e il responsabile dell'immigrazione Tony Uovi. Lunedì 4 la serata conclusiva con l'assessore regionale Simona Bordonali, il senatore Gianmarco Centinaio, il senatore Stefano Candiani, il senatore Paolo Rigoni, l'assessore regionale del Veneto Roberto Marcato e l'onorevole Guido Guidesi. Come vedete un programma veramente ricco. Una pausa tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Giovedì sera Castione della Presolana nella chiesa di Dorga si è tenuta l'ultima serata della rassegna Albinoni dedicata alla riscoperta del compositore Tommaso Albinoni e delle sue origini castionesi, il padre era della località ai piedi della Presolana. Titolo della rassegna 2017, Albinoni e Bach tra l'Italia e la Germania alla fine del barocco. Quindi questa sera state mostrando i legami forti tra Albinoni e Bach? Sì, cerchiamo di fare questo connubio che secondo me è uno dei più interessanti che Bach ha avuto con gli autori italiani, addirittura più che con Vivaldi, già che furono proprio alcune opere di Albinoni che influenzarono Bach nella sua costruzione contrapuntistica e quindi è assolutamente necessario riscoprire quest'autore anche per riscoprire i legami per autori grandi e assolutamente conosciutissimi come Bach o come Ender. Nella strada della musica siamo in un momento molto particolare, quindi si stanno per sciogliere tutte le logiche e dinamiche dei contrapuntismi. Sì, si stanno sciogliendo, è un momento molto particolare questo del 1700 in cui si cerca di arrivare ad un compromesso fra quello che è il contrapuntismo severo del 1600 con questa nuova sensibilità che porterà al classicismo e Venezia è uno dei punti cardini europei così come lo ha anche la Germania, così come l'Ipsia, così come Amsterdam e quindi abbiamo fra Bach e Albinoni una situazione ideale per poter vedere questo connubio e questo sviluppo che porterà all'avvento del classicismo pochi decenni successivi, intorno al 1750-60. C'è interesse da parte della gente anche in questo tipo di eventi? La cosa veramente straordinaria è proprio l'interesse della gente. Si penserebbe che oggi con tutto anche questo apparato mediatico che c'è l'interesse potesse scemare e invece la gente c'è, vuole, chiede di poter avere delle spiegazioni per quanto riguarda brani, per quanto riguarda la storia dei brani e molto partecipe. Abbiamo visto qui alla rassegna gente presente anche in maniera massiccia alle conferenze. Quindi sono veramente contento, entusiasmato e lo è anche il pubblico per cui meglio di così. L'importante è quello che sta facendo il Comune con questa rassegna? Quello che sta facendo il Comune è assolutamente fondamentale perché in un'epoca come questa dove per la cultura si utilizza sempre meno risorse e si considera la cultura come al solito, un po' come sempre è stata, ma in particolare in questi anni come la cenerentola della situazione un po' artistica, avere un'amministrazione che sostiene questo e anche per una riscoperta di un personaggio che il cui padre ebbe i Natali qui direi che è assolutamente fondamentale per la riscoperta. E c'è tanto da valorizzare a Castione? Sì, questa sera valorizziamo con la terza rassegna al Binoni che è un autore originario di Castione, il cui padre erano originari di Castione. È una rassegna importante che abbiamo ripreso dopo alcuni anni di pausa e intendiamo continuarla anche negli anni prossimi. Abbiamo anche scoperto un bellissimo affresco a San Peder che era probabilmente un voto della famiglia al Binoni che testimone comunque la provenienza della famiglia al Binoni, probabilmente del nonno da Castione e poi andò a Venezia ed ebbe successo. E ora continuiamo con lo sport, in particolare il volley femminile. Ci occupiamo della Foppa Pedretti pronta per un nuovo campionato. Ma intanto per me è un onore essere qui a Bergamo, comunque è una società alla quale ho sempre ambito da diversi anni, un club importante che comunque nella storia ha ottenuto tantissimi risultati. Quindi sono felice di questa scelta che ho fatto, spero di poter dare il mio contributo nel migliore dei modi, però sono felice. Tutti sappiamo l'importanza dei risultati che ha avuto questa società e quindi non ho potuto non approfittare di questa occasione. Poi l'ho fatto in un modo anche comunque spensierato perché volevo prendermi una rivincita da questa stagione dove purtroppo non ho giocato tantissimo e quindi ho fatto una scelta anche con il cuore. Cosa ci aspettiamo da questa stagione? Forse ancora un pochino presto per dirlo, nel senso che oggi è il primo giorno, tante ragazze ancora non sono arrivate, non le conosciamo, dobbiamo un attimino trovare i nostri equilibri. Sicuramente faremo del nostro meglio e spero che questo ci porterà lontano. A livello personale mi auguro di fare una stagione e farla ai miei livelli, cioè di tornare ad essere ancora una volta la giovane che ero. No, spero solo veramente di poter aiutare questa squadra nel miglior modo possibile. Non mi piace mai dare le cose per scontato, anche se comunque il posto è mio, però sono una persona molto meticolosa e anche se faccio una cosa bene voglio sempre sforzarmi per farla meglio. Quindi credo che la perfezione esista, solo che forse è molto fatica a raggiungerla, ma ci si può sempre avvicinare un pochino di più. Quindi il mio obiettivo è quello. Sono contenta di ricominciare, questa è la prima cosa vera e importante perché quattro mesi lontani dalla pallavolo sono lunghi e quindi la voglia di rincominciare c'è, ancora di più perché la squadra è completamente rivoluzionata, diciamo, a parte due o tre giocatrici e qualcuno dello staff. Quindi una nuova avventura, una nuova scommessa e ci si mette in gioco di nuovo per un altro anno. Sì, alcune veramente sono giovanissime, ho guardato la data di nascita del 99 e sono un po' impegnative. Quindi sì, per loro sarà forse la prima esperienza in assoluto in Serie A, però secondo me sono nella squadra giusta per fare questa nuova esperienza. Io ho giocato a beach volley tutta l'estate perché non riesco a stare ferma, poi il beach volley è una mia grande passione e quindi ho giocato, sì, ho fatto il torneo di lega volley del 4x4 tutto il mese di luglio. E poi ovviamente ogni tanto ho giocato nelle spiagge del Fantini, sempre a beach, giusto per sudare un pochino e potermi godere una birra gelata dopo. Negli ultimi due mesi diciamo che sono piuttosto convinta del fatto che sarà la mia ultima stagione, ma per una questione fisica. Non vorrei arrivare a spingere troppo il mio fisico all'estremo, nel senso che ho delle problematiche che non voglio trascinarmi troppo e non voglio poi un giorno zoppicare, ecco, dover lavorare, dover zoppicare perché ho dei problemi, quindi come voglia, come testa, giocherei veramente all'infinito. Credo che sia arrivato il momento di dire che è l'ultima stagione. E ora continuiamo con la rubrica Quala Zampa? Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Quala Zampa. Parliamo questa sera del cimurro o malattia di carré. È una malattia molto contagiosa che colpisce il cane che fortunatamente è diventata piuttosto rara grazie alla vaccinazione introdotta nel 1960, ma periodicamente salta fuori laddove non si fanno vaccinazioni. Quei proprietari che non vaccinano il cane già da cucciolo possono andare incontro a questa malattia molto contagiosa. È un virus che si diffonde molto velocemente e molto facilmente tra un cane e l'altro, nei cani appunto non vaccinati e che dà problemi a livello cerebrale. Diciamo che i primi sintomi sono come dei tremori, il cane non mangia, può avere dello scolo nasale, può avere appunto tosse, difficoltà respiratorie e quindi proprio tutti i sintomi anche legati alla sfera nervosa. Quindi appunto trema, si coordina poco e spesso è mortale. Più giovane il cane è più facile che questa malattia lo porti a morte. Non c'è una vera e propria terapia per il cimurro, ma il veterinario cercherà di tenere in vita e di tamponare i danni che questo virus causa a livello cerebrale, proprio cercando di far sopravvivere e superare la crisi al cane. Per questa ragione è importantissimo vaccinare il cane a otto settimane la prima volta con un richiamo circa un mesetto dopo e poi con un richiamo una volta all'anno in modo che il cane sia completamente protetto dal cimurro. Generalmente i cuccioli vengono vaccinati per questa malattia e per altre malattie contemporaneamente in modo da mettere al sicuro il cane da questo terribile virus. Il virus sicuramente non è infettivo per l'uomo, non è pericoloso per le altre specie, se non per i furetti, le moffette o altri carnivori sensibili al cimurro, ma per il cane una semplice profilassi, quindi una semplice vaccinazione alla prima volta a otto settimane lo mette al sicuro contro il cimurro. Quindi ricordatevi se state acquistando un cagnolino o se qualche amico ve lo sta per regalare, ricordatevi di rivolgervi al veterinario per la vaccinazione preventiva di base che coprirà e quindi il cimurro non sarà sicuramente un problema. Per questa sera è tutto, ci vediamo settimana prossima a un nuovo appuntamento con Quala Zampa. Arrivederci! Una pausa tra poco! Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle ore 20 e 40 trasmetteremo la rubrica di pareri ed opinioni locali, il sasso nello stagno. Tony Tranquillo questa settimana è stato abbratto e si è occupato della proposta del Movimento 5 Stelle che vorrebbe portare il voto già all'età di 16 anni. Alle 21.20 trasmetteremo Antena 2 Sport, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.15 uno speciale dedicato al Festival Folk che si è tenuto a parre, alla mezzanotte e mezzo la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 verrà riproposto anche alle ore 21.30 sul canale al numero 218 sul quale alle 22.10 trasmetteremo Target e il servizio ci porterà a Castione della Presolana con un'intervista al primo cittadino che ci spiegherà i principali interventi in programma nei prossimi mesi a Castione. L'Almanacco domani mercoledì 23 agosto, il sole sorge alle 6.25, tramonta le 20.20, il culmine alle ore 13.23, la durata del giorno è di 13.55. La luna sorge alle 8.12 e tramonta le 21.20 la fase lunare, la luna è crescente ed è visibile all'11%. La Chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. Ecco anche le previsioni del tempo, il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, durante le ore pomeridiane non si esclude la possibilità di isolati e deboli rovesci. In diminuzione le temperature massime. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.